Allora, amici appassionati di Luna Park, buon pomeriggio da Lorenzo Brandoni, il grande Brando, che vi dà il benvenuto qui, signori e signori, oggi vi presento il Luna Park di Gallipoli, estate 2019, qui sul lungomare Galilei, questo è il lungomare Galilei di Gallipoli. Uno dei lungomari più belli di tutto il comune di Gallipoli. Siamo alle spalle della Grotta del Diavolo, che è di qua ed è anche qui sotto. E oggi vi faccio vedere un po' le attrazioni che ci sono qua, un po' di giostre di varie famiglie, che penso avete visto anche in alcuni miei video di giostre, chiaramente. delle ultime presentazioni di una parte. Qui abbiamo il tiro fucile, diciamo questo è il tiro fucile. Vabbè, sempre le cose là, queste sono quelle per il tiro ai bersagli. Ah, qua, vabbè, questo lo fai, specie il tiro in porta. Poi abbiamo le molli, aspettate che, comunque guardate ragazzi, spettacolo qua a Gallipoli. Eccolo qua, il crazy, il crazy jump, della, della, dei fratelli Pisanello, qua un po' di una parte quasi di Pisanello. E' tutto, è tutto della ditta Pisanello qua, il crazy jump, poi, 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 cosa abbiamo altro qui? Ah, il crazy rodeo, questo sempre della ditta Pisanello. Questo è, c'è anche nel video, nel mio video invernale della presentazione di Luna Park di Natale, insieme con la corrida, dei fratelli ovviamente Pisanello. E' la ditta, sì, sempre ditta Pisanello. Poi, ecco, questa è una delle nuove altalene, questa è l'altalena Star. Poi abbiamo, ecco, questa è quella che c'era da, vi ricordavo, uno dei inverni passati. Questa è sempre vecchissima, questa è la, anche da tradizione, sempre qua, sempre su lungomare, quindi, è la gioia dei bimbi, questa è la gioia dei bimbi. Io mi ricordavo, quando ero piccolo, mi dicevo se avevo paura di salire qua sopra, vabbè, facciamo stare. Eccolo qui, con il tettuccio riparato. Poi abbiamo, questo è il mini autoscontro, sicuramente sarà della ditta Pisanello, o Mantovain, non lo so. Poi abbiamo, vabbè, quelle che avete visto nei miei video, vabbè, il brucomela Pisanello, eccolo qui. Il brucomela della ditta Pisanello di Gallipoli e questa è quella di Lillo, di Lillo Pisanello. E poi, questa qua, invece, è quella... E questa, invece, vabbè, questa è qui, invece, gli airshow, sempre famiglia Pisanello. E di questa trovate il video dell'aprile 2019, dell'aprile di quest'anno, a Matino, il Luna Park di Matino, San Giorgio. Insieme, vabbè, poi c'è il brucomela. E questo... E dunque... Bene, bene, bene. Signore e signori, questo è il Luna Park del lungomare Galilei di Gallipoli, qui a Gallipoli, estate 2019. E un saluto dal mitico Lorenzo Brandoni, il grande Brando. Ciao ragazzi, ciao alla prossima! Al prossimo Luna Park! Ciao! Ciao! Ciao!